Via alle chiamate ai più fragili per la terza dose. Accesso libero agli hub per chi deve fare la seconda dose e un camper per favorire la somministrazione davanti alle aziende. Tre le novità in Toscana in tema di vaccinazione anti-covid. Intanto oggi parte il piano per la somministrazione della terza dose ai più fragili. Circa 50.000 le persone interessate in tutta la Toscana. Per i fragili è prevista la chiamata attiva da parte dei vari reparti che hanno in cura i pazienti che per le loro fragilità sono particolarmente delicati nella situazione di contagio covid. Tra le categorie di persone che hanno bisogno di una dose ulteriore per particolari situazioni e patologie ci sono circa 5.000 trapiantati, 2.100 dializzati, 5.000 con infezioni da HIV, 25.000 malati oncologici in trattamento chemioterapico e tra 13.000 e 15.000 persone immunocompromesse. Chi per errore restasse escluso dalle telefonate potrà rivolgersi ai tre call center delle ASL 055 54 54 54 per la ASL centro, 05 85 49 80 08 per la ASL nord-ovest e 843 25 25 per la ASL sud-est. Dopo i fragili il progetto del Ministero è quello di estendere la terza dose agli over 80 e agli ospiti delle residenze sanitarie assistite. Poi toccherà al personale sanitario.